In merito al caso dell'omicidio di Mieri Cirillo avvenuto il 18 agosto del 2014 nei pressi della sua abitazione, nel corso dell'udienza di oggi sono stati sentiti i periti che hanno depositato la perizia rispetto alla sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'imputato prima e durante la commissione del fatto. I periti di Maria Ciaffone, medico specialista in psichiatria di igiene e medicina preventiva, e Giovanni Malara, specialista in psichiatria, incaricati dal presidente della Corte d'Assise di Locri, Fulvio Accurso, hanno illustrato, su richiesta del presidente, su come sono giunti alla conclusione che al momento del fatto Giuseppe Pilato fosse capace di intendere e di volere. Sentito anche il perito della difesa di Antonio Zoccoli, neurologo e psichiatra specializzato, il quale sostiene tesi contrarie. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la difesa chiede la rinnovazione del collegio peritale per disporre una nuova perizia sull'imputato. La Corte, dopo essersi ritirata per deliberare, rigette la richiesta della difesa, perché non necessaria al fine di decidere. Sono sufficienti le perizie disposte. Dopo la chiusura dell'istruttoria di Bettimentale, sono state predisposte le date di discussione. Il 5 ottobre verrà sentito il pubblico ministero e la parte civile. Il 12 ottobre verrà sentita la difesa. E il 9 novembre verrà letto il dispositivo della sentenza. Quindi è il 10 ottobre verrà sentito le caratteristico,Usezza e seguire il pubblico,